Chiudi da quella ragazza che... Tu lì sono già buoni da mangiare? Una coppa? Tu lì sono già buoni da mangiare? La coppa è quella che mi fa... Ti vuoi blocchere? No, no! A me non ti ha ciappe! Ah, sono fabulosi! Sono fabulosi! Occio! Tutti che mangia questo? Mi sembra... Vedi, adesso li li metti dentro lo sacco E poi dopo lo schiacciato diventa una gotella Me non c'è, però... Mi fa due testa Si, non mangia molto salata il Giggio Me... Non c'è Non c'è Non c'è Allora, c'è Lui non fa testa, però, perché mangia... A San Giovanni c'erano gli altri forni Lasciava la testa Bruciava anche il faiolo Ti ricordo che il cambio è di un quadro Oh no, ecco... Io sono sempre pronto E allora, quando mi chiami, io vengo con... Io ti ringrazio, ma anche senza quadro La sua prendenza è resiato. Perché ti dà un'aria? Quello che ci dà. No, no. Perché c'entra. Ah, non lo so. No, anche io ti perché ti dà un'aria. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Ah, ci sono i due fratelli. Con loro. Ma siamo al Cicento. Se ci sono i due fratelli, siamo al Cicento. Non lo so. 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 Oh, io. Oh, io. Oh, io. Io. Al tiro, come sai. Lo so. No. Ma ce lo vogliamo parlare. Ci stiamo subito. Adesso, adesso lo apre, che è in noi. 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 Noi.